Davide Salvi! L'altra sera oppure... L'altra sera... C'è la pubblicità. No, no, io devo ringraziare Davide. Mi ha sempre invitato ai suoi raduni che fa a Creda, sono sempre andato con piacere. Lui purtroppo suona 32 sere al mese, per cui riuscire ad avere la mogidora è sempre stato impossibile. Questa sera è stata una sorpresa vera, non era in calendario. Era suonare ma pioveva, l'embandecà e non l'aventolta l'intera. Per voi Davide Salvi. Nonostante l'orario, nonostante l'orario è rimasto qui, compatto fino alla fine. E adesso un bel valser, grande amore! VALDE SALVI! VALDE SALVI! VALDE SALVI! Maia! VALDE SALVI! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.